Allora stamattina ci troviamo a Vabongione, teoricamente dobbiamo raggiungere il rifugio tuo per poi passare al castello, niente si parte stamattina sono accompagnato da Daniel, Daniel saluta e via si parte di una volta che stiamo camminando un po' più e vedrai ci sono il cascato del sedio Grazie a tutti Allora stiamo passando nella valletta sotto il Re Castello, bellissimo, adesso la strada è un po' l'ombra, però... Bene diciamo che fino adesso tutto abbastanza tranquillo, vedremo poi quando arriveremo in come sarà la situazione, va bene dai... insomma salita, ta 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 ta, poi si va dietro e poi... insomma salita, ta 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 ta, poi si va dietro e poi... fino in punta, ce la faremo? insomma salita, suon Sally incongruenza suon Allora, da qui in avanti la salita è più tecnica, quindi via le bacchette, prepararsi un attimino e poi si va. Allora, da qui in avanti Siamo arrivati quasi in cima alla vetta, Dagne apre la strada, faticoso, ma bellissimo. Allora, da qui in avanti Siamo arrivati in vetta, spettacolari. Allora, da qui in avanti 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 Allora Siamo tornati, siamo arrivati alla macchina sani e salvi, abbiamo fatto una bella scarpinata, siamo da buttare via, però soddisfatti. Giusto Daniel? Allora, ciao! Ciao, ciao! 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 Ciao!